Come si fa a parlare della partita se la serata ti porta a parlare di Giorgio Chiellini e di Paolo Di Bala? Non vedo l'ora di portarvi la mia live reaction, cerco di farvela vedere per la mattinata di domani in cui verso lacrime, oserei definirle virili perché ci hanno sempre raccontato che il calcio è un gioco, è uno sport ma quando si creano queste emozioni incredibili io penso che si faccia un passo oltre credo veramente che si arrivi a una concezione davvero di amore puro nei confronti di una squadra o nei confronti dei calciatori che riescono ad incarnare i valori della suddetta squadra questa sera è stato uno spettacolo, salutare Giorgio, salutare Paolo ho comprato la maglia commemorativa di Giorgio in live insieme a voi mentre la Juventus giocava, 130 euro spesi volentierissimi per guadagnarmi l'ultima maglia di Giorgio Chiellini quella utilizzata per la partita di stasera e poi il cambio dopo pochissimi minuti non me l'aspettavo, 17 minuti come i 17 anni di Juve tutto questo ovviamente in maniera organizzata perché questa partita era il loro spettacolo, il loro show non era Juventus Lazio, per me questa partita era l'addio di Giorgio, l'addio di Paolo ritorno anche di Sarri a Torino che è stato l'ultimo allenatore a darci uno scudetto infatti mi è piaciuto tantissimo vedere Sarri vicino ad Allegri nell'abbraccio a Di Bala a fine della gara quando è stato sostituito e se parlavamo di numerologia, Giorgio esce al 17esimo come i 17 anni di Juventus Paolo esce a 10 minuti dalla fine praticamente come 10 è il suo numero di maglia, non il 21 questa è la prima maglia di Di Bala all'Iventus, io ho iniziato a comprare le maglie di Di Bala già dal primo anno di Di Bala alla Juve questo per farvi capire quanto ho amato il ragazzo, il calciatore, quello che ormai è diventato un uomo abbiamo un anno di differenza quindi siamo molto vicini anche a livello anagrafico e ora è finita, non definitivamente perché c'è ancora una partita di Firenze da giocare non so a questo punto se giocheranno Di Bala e Chiellini, questa mi è sembrata una sorta di saluto definitivo io penso che non sarà l'unico saluto perché si parla di Morata, si parla di Bernardeschi, si parla di Alexandro banalmente di Artur, di Rabiot, giocatori che possono uscire da un momento all'altro stesso Moise Keane addirittura potrebbe lasciare la Juve quindi ci sono tanti giocatori in uscita, quelli che sappiamo per certo sono il capitano, il vicecapitano della Juventus che passano il testimone a Leonardo Bonucci, ufficializzato nuovo capitano della Juve proprio ieri da Massimiliano Allegri una partita secondo me che la Juve gioca anche bene nel primo tempo in cui trova il vantaggio con due reti a zero gol di Vlaovic, bellissimo colpo di testa su asset di Morata e poi tra l'altro Vlaovic che esulta a quella di Balabasco proprio diciamo di livelli di fanboy, di allucinanti mi sento proprio ragazzino quando succedono queste cose mi emoziono, mi gaso terribilmente e poi il bellissimo gol di Morata nella bella azione corale della Juventus orchestrata, manovrata, diretta, da quel tocco di tacco, quella magia l'ultima vera magia di Paolo Di Bala all'Allianz Stadium con la maglia della Juve che apre la strada a quadrado in campo aperto che poi può allargare appunto su Alvaro Morata che trova un gol bellissimo scusatemi ma ovviamente durante la partita ho abusato di fazzoletti per gestire le lacrime ma tutto questo lo vedrete appunto nella live reaction che vi porterò qua sul canale e devo dire la verità nel primo tempo mi è sembrato di vedere quello che è la Juventus quest'anno c'è una squadra che se si blocca, se si limita soltanto a difendere fa un po' fatica ed è una squadra che deve andare in realtà deve insistere, cercare con insistenza altri gol perché è una squadra che qualche gol in più te lo può fare con un po' più di coraggio la fotocopia stagionale della Juventus è stato proprio questo e probabilmente è stata anche la critica che è stata rivolta a Massimiliano Allegri proprio da parte della dirigenza si è parlato di questo scambio di battute con Nedved che rimproverava proprio questo ad Allegri quindi quel po' di mancanza di coraggio che in questa stagione è stato probabilmente una delle cause principali anche della brutta annata bianconera e infatti il secondo tempo va esattamente su questi binari la Juventus che aveva completamente staccato la spina ha rinunciato a replicare lo spartito del primo tempo che secondo me è stato davvero un primo tempo di ottimo livello e siamo andati completamente lontano da quei binari che invece avevamo seguito nei primi 45 minuti poi la casualità del calcio la risata che mi viene da fare è che poi paradossalmente questa partita non la vinciamo per il motivo opposto e cioè dopo aver fatto un secondo tempo praticamente sempre di difesa del risultato abbiamo cercato un contropiede che poteva valere il 3-1 un po' come è accaduto col Genoa dove il gol di Chiena avrebbe portato sul 2-1 invece no perché sul ribartamento di fronte c'è il gol della Last e poi qua permettetemi di dirlo va bene all'interno della gara di come me ne fregava niente è namoroso il non fallo fischiato quadrato dall'altra parte e poi sulla ripartenza prendiamo gol la Last doveva pareggiare per forza di cose per andare in Europa League missione compiuta per loro gol del Sergente mi auguro che si siano alzati in piedi ad applaudirlo Milinkovic perché sarebbe bello pensare che questo possa essere il primo gol di tanti in successione a Torino allo Stadium con la maglia della Juve ovviamente il giocatore della Juve non nel senso che tutte le volte che viene a giocare ci fa gol quindi magari un inizio proprio in questo modo mi farebbe mi farebbe piacere vabbè parte di scherzi dato che sappiamo che oggi la Juventus ha incontrato Pogba credo proprio che questa sia una delle tematiche dalle quali ripartire l'anno prossimo e cioè rendersi conto di che squadra sia in mano perché tante volte l'abbiamo detto in questa stagione Allegri probabilmente non ha capito bene quella che è stata la squadra che aveva in mano hanno cercato di seguire la sua linea la sua idea diversamente da come ha fatto Sarri che è l'ultimo allenatore che ha vinto lo scudetto con la Juventus nell'unico mondo che ha giocato poi ovvio Allegri ne ha 25 gli scudetti indubbiamente quindi non è quello però Sarri ha fatto una cosa molto intelligente nella sua unica stagione a Torino quando si è reso conto di avere in mano una squadra che non riusciva a seguire quella che era la sua idea di calcio è stato Sarri ad adeguarsi alla squadra per iniziare poi ci sarebbe stata possibilità eventualmente in caso di conferma di continuare sui binari che voleva lui costruendo la squadra su immagine e somiglianza ma quest'anno Allegri sta continuando a seguire invece quella che è la sua idea di tranquillità di prudenza e probabilmente questa squadra non è pronta questa squadra non è fatta per questa maggior ragione viene da dire oggi che perdiamo uno come Giorgio Chiellini che l'arte della difesa potrebbe insegnare credo a chiunque nel mondo la Juve è una squadra diversa questa Juve la nuova Juve la Juve che verrà è una squadra diversa è una squadra che ha bisogno di spazio ha bisogno di non mollare ci saranno dei momenti della partita in cui dovrai accontentarti semplicemente di rimanere dietro e di essere attento perché anche di questo è fatta una partita di calcio anche di questo è fatta una stagione anche di questo è fatto il calcio vero e proprio ma questa Juve non può permettersi un tempo intero dietro ribadisco poi la coincidenza terrificante del vedere il gol preso proprio per la motivazione opposta ma aggiungo probabilmente potevamo andare a fare il 3-1 con facilità perché comunque l'Alazio si era distesa l'Alazio era venuta su l'Alazio doveva cercare il pari noi abbiamo dormito terribilmente anche sul calcio d'angolo e questi sono altri errori che abbiamo visto troppe volte in questa stagione e ora vedo lo stadium illuminato la festa le luci Neon Chiellini con le figlie al centro del campo e quindi permettetemi di salutarvi perché sono impegnato a salutare Giorgio Chiellini e Paolo Di Bala due uomini che veramente hanno fatto la storia recente della Juventus e che mi hanno veramente segnato come tifoso è stato un piacere un onore vedere rigiocare per noi buona fortuna ragazzi ovviamente non si vai all'intro Paolo non si vai all'intro Paolo